Cala il suo poker, Francesco Bettella, il campione di nuoto paralimpico padovano, ha annunciato la partecipazione alla sua quarta Olimpiade e andrà a Parigi quest'estate. Ho iniziato ad allenarmi ancora più assiduamente rispetto a prima, mancano cinque mesi, sembra tanto ma alla fine non c'è così tanto tempo, quindi spero di arrivarci nel miglior modo possibile. L'atleta classe 1989 ha già iniziato la sua preparazione nel suo palmarès, si contano quattro ori, otto medaglie d'argento e sette bronzi. Sento bene, ovviamente non è ancora in forma perché spero di essere in forma nei giorni di gara, quando sarà importante esserlo, però sono contento di come sta la mia preparazione sia in acqua che in palestra. Madrina d'eccezione per l'annuncio di Bettella, la velocista Manuela Levorato che ha presentato il suo libro La Corsa alle mie ali. Per me lo sport è stata un'occasione, una grande occasione di ricrescita e dentro il libro si trova un percorso, una costruzione di sogni, desideri, di miglioramento personale. Non si parla di certo solo di medaglie, di record, ma di quanto lo sport davvero va fatto a tutte le età perché aiuta tantissimo.